Una delle mie ben trofeite, il Linkin Park. Se sono tornata alla grande voi dite come sono tornata. Eh, li sentite, li sentite, chi sono, chi sono, chi sono? Ragazzi, sono felice di annunciarvi il ritorno dei Linkin Park e voi direte, ma come Linkin Park? Cantavano un'altra persona? Eh sì, canta una donna ragazzi, tornano in Linkin Park, nuova musica, nuova voce, la cantante Emily Armstrong al posto di Chester e Bennington qui su Squalo Internazionale Radio, questo nuovo appuntamento che Squalo farà ogni settimana quando c'ha voglia, quando c'ha qualcosa da raccontare.